doppio salto mortale rieccoci qua mi ero dimenticato di collegare il microfono esterno che è molto utile perché altrimenti rimbomba fa degli effetti strani meglio evitare cari amici sono contentissimo di questa puntata di questa sera di questa diretta perché affronteremo due tre argomenti veramente notevoli uno vastissimo che è quello della semola cercheremo di addensarlo in poche preziose informazioni e poi parleremo a lungo della del mio prodotto di punta diciamo quello che mi ha in qualche modo dato le maggiori soddisfazioni che è questo ragazzi guardate guardate è questo guardate che bellezza è bellissimo guardate questa è una focaccia pugliese guardate il fondo che meraviglia una focaccia pugliese ad alta idratazione poi ne parleremo dopo ve la presenterò perché c'è una ricorrenza sono i dieci anni faremo un evento eh domenica molto carino molto interessante spero che parteciperete in milioni ma che dico milioni decine allora eh la semola in tutti i suoi aspetti tutto quello che avreste voluto sempre sapere non avete mai avuto o non avete mai osato chiedere non avete mai avuto il coraggio di chiedere la semola è possiamo partire c'abbiamo qualcuno che ci guarda stiamo parlando il vento vai vado tranquillo ciao paola ciao rosa ciao paoletto sei sempre un tesoro ok a posto allora la semola perché ci interessa la semola perché è un cugino una cugina del nostro grano che utilizziamo normalmente del grano tenero la semola si chiama triticum come tutti eh gli appartenenti a questa famiglia però durum perché è il grano duro mentre eh quello il grano tenero si chiama triticum mestivum hanno una storia un particolare che risale bu 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 mezzaluna fertile mesopotamia due tremila anni prima di Cristo un qualcosa di breve ancora prima perché poi sono arrivati dopo gli egiziani che sta succedendo ok e gli uomini cominciarono a domesticare le specie selvatiche partendo dal farro che non so se lo sapete questa è carina il farro è quello che ha dato nome alla farina la farina il termine proprio farina viene da farro il primo il primo cereale che è stato in qualche modo addomesticato ed era il monococco il monococco poi si è evoluto e ha dato luogo al triticum durum cioè al grano duro quindi il grano duro è stato uno dei primi delle prime evoluzioni rispetto a eh le prime eh i primi cereali che sono stati addomesticati dall'uomo poi è venuto eh il di cocco del farro che ha dato luogo al grano tenero nel famoso triticum vestivum e poi da ultimo è venuto il farro spelta che è quello che poi è diventato famosissimo e è stato diventato anche il grano dei romani grano degli egiziani e dei romani questo per dire che la storia di questi grani è veramente qualcosa di si perde davvero nella notte dei tempi parliamo di quattro mila cinquemila anni fa roba proprio antica davvero non i grani antichi di cui parlano adesso quando parlano per esempio vabbè del senatore cappelli che ha cinquant'anni sessant'anni e cose del genere o forse cento adesso è arrivato e comunque non è certo antico insomma vabbè detto questo la la caratteristica del grano duro rispetto al grano tenero è quello di avere colore sapore profumi e anche consistenze diverse rispetto a quelle del grano tenero il grano tenero lo conosciamo lo riconosciamo sempre la farina doppio zero usata mille volte in tutte le nostre pizze focaccia preparazione panettone tutto doppio zero è tutto grano tenero il grano duro è veramente qualcosa di poco utilizzato la differenza è che si coltiva il grano duro in zone con tanto caldo e poca acqua quindi il sud d'italia quindi la mia bella puglia la sicilia sono famosissime perché hanno tante varietà di grani duri che sono figli proprio appunto di questo pensate che il senatore cappelli è nato in puglia per di vicino san severo per la precisione non ha tenuta che il senatore cappelli aveva regalato a nazareno strampelli che aveva diciamo selezionato questo benedetto senatore cappelli di questo grano quindi grano duro calore poca acqua sud d'italia grano tenero invece vuole temperature più fresche e molta acqua per lavorare bene per crescere bene e quindi ecco che il nord italia la panora padana sono proprio naturalmente elette per fare i grani teneri nella grandissima parte di grani teneri italiani proviene dalla pianura padana o da piccole altre fasce e zone della nostra bella italia quindi una volta capito questo cerchiamo di capire dove sono le somiglianze le differenze la differenza sta nel fatto che mentre il grano tenero viene utilizzato perché ha un effetto piuttosto raffinato al nostro palato la farina doppio zero ha un effetto molto molto setoso in bocca la brioche tutte le preparazioni dolci pensate ai correnti sono tutti particolarmente raffinati la semola invece ha una caratteristica molto peculiare che è quella di presentarsi al palato con una sensazione rustica una sensazione un po' polverosa un po' non finissima diciamo così e questa è caratteristica proprio specifica della semola di grano duro del grano duro quindi quando noi mangiamo la focaccia pugliese normalmente ci aspettiamo qualcosa che al morso ha grandi sapore grandi profumi però al morso mantiene una certa rusticità ecco perché si fanno quelle focacce con i pomodoroni spiaccicati sopra che affondano è molto bello per l'amor di dio anzi è una cosa che è molto attraente a vedersi però chiaramente non ha quella eleganza che può avere per esempio la brioche che era brioche grano duro non è normalmente fatta da nessuno il grano duro fra l'altro ha dato luogo poi a tutta una serie di strane leggende storie particolari per esempio vi ricordate la farina dei faraoni il kamut quella famosa farina che dicevano hanno creato questa leggenda creata d'arte da un fantastico servizio commerciale che ha fatto un lavorone se sono inventati che hanno trovato il grano duro nelle tombe dei faraoni e quindi grano antichissimo fai un riassumato da migliaia di anni imbalsamato e fatte le mummie di grano queste cosette in realtà è il grano corasanne che è una varietà di grano duro di ottima qualità però non è niente a che vedere con i faraoni non c'entra proprio un ben amato niente con queste storie antiche la cosa positiva è invece che il grano duro fa parte della nostra storia d'italia in maniera molto importante mania molto importante perché allora voi non so se avete mai sentito parlare del grano arso il grano arso è una varietà di grano duro che è una varietà è un tipo e un grano che è stato poi tostato fino a diventare un po' nocciola e avere assumere poi vaccinato assume quel profumo di fumo fumicatura classico del grano arso e questo è un qualcosa a cui i palati che sono abituati a questo profumo trovano irresistibile nella mia zona di foggia era conosciutissimo il grano arso e facevo una pizza speciale una pizza a forno aperto col grano arso che era un grano appunto particolarmente sapido molto forte intenso di sapore come si otteneva sto grano arso e perché era arso perché vedete la puglia ha queste dimensioni queste distese di pianure infinite dove veniva coltivato il grano quando si arrivava al mese di maggio giugno che si finiva di raccogliere il grano una tradizione antica voleva che il grano quel che rimaneva delle stoppie di grano cioè quella parte terminale della diciamo basilare della spiga della dello stelo che rimaneva attaccato al suolo venisse bruciato venisse appiccato il fuoco perché si era convinti che la cenere di queste di questi steli queste stoppie che si chiamano tecnicamente così fosse in qualche modo potesse arricchire il terreno poi si è scoperto dopo dopo tanti anni da poco relativamente poco che la bruciatura delle stoppie uccideva tutta quella parte superficiale dei batteri delle forme di vita che abitano nel nostro terreno con il risultato di essere più dannosa che utile e quindi in qualche modo fra l'altro poi portava tutta una serie di danni incendi che partivano avanti dove andavano a finire se partivano poi ragazzi voi dovete pensare io me lo ricordo la nostra Puglia era diventava nera il cielo non si vedeva più sole scompariva era tutto bruno era tutto scuro sembrava un eclissi solare una cosa una scena apocalittica da inferno dantesco ecco quella era la nostra Puglia quando si appiccavano i fuochi alle stoppie potete immaginare che distese che vastità che dimensioni enormi avevano questi falò questi fuochi e chiaramente anche i rischi pericoli tanto ci scappava il morto e non era certo una cosa piacevole bene in questa tecnica di bruciatura del delle stoppie nella fase di mietitura quindi quando si tagliava il grano con la spiga a mano per lo più anticamente una parte del raccolto finiva per terra erano le spighe che andavano perse smarrite durante la raccolta e si era in valso l'uso di spigolare ovvero di le donne si chinavano piegate in due poverette sotto la fatica il sole e tutt'altro e appena le fiamme avanzavano loro erano le prime a piombare sui campi a seguire le fiamme da vicino per essere per evitare di essere anticipate da altri e andavano a raccogliere queste spighe che appena erano state attraversate dal fuoco e questa tostatura naturale involontaria non desiderata chiaramente conferiva al grano questo odore particolare di grano arso ecco come è nato il grano arso che tuttora oggi viene tostato artificialmente ovviamente però esiste tuttora all'epoca c'era uno scambio del grano arso con il grano bianco veniva chiamato di 3 a 1 quindi si davano 3 kg di grano arso per averne uno di grano bianco quindi pensate quanto fosse caro costoso da ricchi avere il grano bianco nelle proprie case ecco perché per tanti anni abbiamo diciamo privilegiato la doppio zero che ci sembrava qualcosa di fantastico oggi sappiamo bene che ha dei problemi e quindi è preferibile altro tipo di farina uno due integrale quello che sarà ora detta questa cosa che è carina le nostre povere signore che facevano questo lavoraccio e dobbiamo invece vedere che cosa può nascere dal nostro grano duro allora nei mix di farina che spesso si fa alcuni soprattutto nelle pizze napoletane ma anche nelle teglie aggiungono una quota percentuale di grano duro rispetto alla farina di grano tè quella bianca chiamiamola così questa percentuale varia da un minimo del 5 fino a non più del 20 per cento non ne consiglio un aumento maggiore e serve per dare un apporto di croccantezza aumenta la croccantezza della superficie del bordo della nostra pizza ne aumentano i profumi e i sapori perché il grano duro ha un apporto di sapori e di profumi pazzesco quando si parlano del grano di altamura o del grano del pane di altamuro del pane di materia come di panni particolarmente pregiati per il loro apprezzati per il loro gusto e il loro profumo è dovuto al fatto che sono realizzati integralmente con farina di grano duro quindi quando noi dobbiamo fare un mix di farine nelle nostre pizze non andiamo oltre il 20 per cento il che non vuol dire che non è possibile che non sia possibile fare una pizza esclusivamente di grano duro anzi è una cosa bellissima che consiglio di provare almeno una volta nella vita perché è qualcosa di spettacolare c'era il nostro amico marco merlino che molti forse ormai non ricordano più tanto perché poverino fra virgolette diventato primario al suo ospedale responsabile di non so quale settore importante quindi è diventato un camice bianco potentissimo e ovviamente i tempi per lui per godersi una bella pizzata si sono parecchio ridotti e mi rispiace di questo però buon per lui che dio lo benedica a vita proprio quel bravo ragazzo ok tornando a noi fare una farina una pizza tutta integralmente in grano duro è una cosa che dovete provare a fare marco ne faceva di bellissime sia napoletane che teglie quindi riusciva a sviluppare anche un'alveolatura di una certa importanza e otteneva qualcosa di apprezzabilissimo nella quale non era diciamo molto seguito lui poi ci teneva particolarmente perché aveva dei campi che aveva coltivato a grano duro e che aveva dedicato esclusivamente poi a farsi la farina per sé e per le proprie pizza quindi pensate che livello di aberrazione raggiungiamo noi ragazzi della confraternite è bellissimo ora un'altra notizia molto particolare molto carina del della nostra pizza di grano duro è la storia di Nazareno strampelli cioè di quel famoso senatore cappelli dovete pensare alla fine del dell'ottocento primi del novecento Nazareno strampelli era una persona aveva uno studioso che aveva approfondito lungamente gli aspetti legati alla coltivazione del grano quando la coltivazione del grano dava 10 12 quintali per ettaro che è una un valore molto basso rispetto a oggi e non ve lo dico oggi quanto fanno perché se noi piglia però ecco diciamo che era proprio bassissimo lui riuscì attraverso la selezione si recava sui campi di grano col suo bel banchetto la sua panchina piccolina si sedeva e cominciava a fare subito l'inseminazione l'incrocio fra i vari tipi di grano per selezionare un tipo di grano che avesse una produttività maggiore rispetto a quella a cui eravamo abituati e ci riuscì fu aiutato in questo da un senatore del del regno perché all'epoca eravamo sotto i Savoia e il senatore si chiamava Cappelli tra l'altro adesso vi dico una cosa strana il senatore Cappelli che adesso è morto ovviamente ha abitato tutta la sua vita a 200 metri sopra casa dove sto da cui vi trasmetto adesso dalla sua piccola villetta mica tanto piccola e ogni mattina veniva alla messa alle sette e mezza alle otto non mi ricordo con la sua bella Rolls Royce dove la sua famiglia al cravattino al pavione si sedeva silenzioso sempre inappuntabile ascoltava la messa e poi andava via e lui era quel famoso senatore Cappelli a cui Nazareno Strampelli aveva dedicato questo grano perché glielo aveva dedicato perché il senatore Cappelli molto carinamente aveva regalato a Nazareno Strampelli quando faceva i suoi studi aveva regalato un appezzamento di terra vicino Foggia che era in zona ideale per la coltivazione del grano duro e ha regalato questo terreno lui lì aveva fatto tutti gli esperimenti fino a raggiungere questa benedetta selezione perfetta ottimale grano che fu intestato appunto a questo senatore Cappelli per ringraziarlo della sua generosità la cosa carina ragazzi è che all'epoca grazie a questa selezione la produttività del grano passò di un colpo da 10 12 quintali a 30 30 quintali anche qualcosa in più a ettaro era un triplicare i nostri prodotti ed era quello che aspettava all'epoca c'era Mussolini Mussolini aveva ricevuto delle sanzioni dalla comunità internazionale e quindi cercava l'autarchia chiamava l'autonomia alimentare quindi dibattendosi là aveva saputo di questo Nazareno Strampelli che nel frattempo era diventato professore universitario ma senza paga costo zero cioè questo non prendeva una lira sta poveretta veramente un grand'uomo e aveva saputo di questi suoi successi lo andò a incontrare gli chiese se era disponibile a fare una battaglia del grano per convincere i contadini in tutta Italia a piantare il senatore Cappelli ovviamente quello ci stette e partì la campagna del grano a battaglia del grano i Mussolini che però già si sapeva avrebbe avuto un effetto positivo che avrebbe determinato l'autonomia italiana nell'importazione del grano avrebbe azzerato le importazioni dall'estero e questo fu solo un merito di Nazareno Strampelli per il quale quel poverino di Nazareno Strampelli sappiate che Strampelli fu osannato portato in tutte le processioni di onoreficenza e mi pare che diventò anche lui senatore e tutto quanto però si rifiutò sempre di iscriversi al partito fascista e per questo fu colpevolizzato dal fascismo fu abbandonato al suo destino senza una lira come era il destino delle persone per bene e avendo poi senza il riconoscimento di quello perché era stato dimenticato perché aveva aiutato Mussolini quindi da una parte c'erano i comunisti incazzati perché aveva aiutato Mussolini dall'altro Mussolini incazzato perché non si era iscritto al partito fascista sto povero Nazareno Strampelli che tanto bene aveva fatto è rimasto un eroe dimenticato tenete presente che i grani che ancora oggi si utilizzano in Cina in Russia non ne parliamo cioè le creso mida i loro fratelli e figli sono tutti figli di quella Nazareno Strampelli e di quel suo grano senatore Cappelli che aveva un solo difetto era alto due metri aveva uno stelo lunghissimo il che vuol dire che quando pioveva mi ricordo mio nonno che diceva si è allettato il grano tutto terrorizza si è allettato allettarsi significava quando il grano si stendeva su un fiato su un fianco sul sul terreno e diventava poi difficilissimo con le macchine dell'epoca andarlo a mietere quindi diventava un problemone quando si allettava il grano e a quell'altezza un metro e ottanta di grano chiaramente era facile un colpo di vento una pioggia un temporale il grano andava giù quindi questo era l'unico difetto per questo hanno fatto poi crese e mida che hanno dimensioni molto molto più ridotte e sono molto più comodi da utilizzare per le macchine mietitrici mietitrebbi eccetera ecco adesso sapete un po la base vi ho detto prima che incrociando diciamo facendo i mix le nostre belle pizze è possibile aggiungere una quota di grano duro e ve lo consiglio perché dopo un po scoprirete che il grano tenero non è che proprio faccia impazzire e rimanga l'unica soluzione si verrà la tentazione di provare a aggiungere altre cose dal farro a altre che ne so la la curcuma la canapa la canapa porta tante tentazioni e porterete soprattutto un grano duro e provateci con la semola perché è veramente di soddisfazione bevo bene e adesso veniamo alla seconda parte alla seconda parte mi hanno rubato il bicchiere non so se si è visto alla seconda parte della nostra del nostro incontro e qui parliamo dell'evento di domenica allora io domenica vorrei festeggiare quella che è il decennale perché domani per la precisione 15 settembre è stata inventata la pizza alta idratazione pizza la focaccia pugliese alta idratazione che è una focaccia particolarissima amici miei molto speciale molto speciale perché ha il cento per cento di idratazione che è un numero che suona suona importante cento per cento ma che se fosse legata solo ed esclusivamente a questa anomalia del numero del cento per cento sarebbe stato già dimenticato la verità è che questa focaccia ha una particolarità assurda cambia la struttura della della sua maglia glutinica assumono la sua sezione gli alveoli assumono una forma pazzesca mai vista prima e neanche dopo in altre nessun'altra ricetta e ha una caratteristica che oltre ad essere buona come sono buone tutte le semole ha anche la perdita di rusticità ricordate che avevo detto prima no c'è questa betta semola che aveva questa caratteristica adesso un po' polverosa al morso un po' rusticotta ecco questa focaccia pugliese perde totalmente la sua rusticità e diventa estremamente setosa molto apprezzabile al palato diventa la mollica liscissima mentre la parte esterna diventa croccante molto piacevole c'è questo contrasto e come l'indor avete presente il cioccolatino l'indor con le belle palline di cioccolato che sono proibite da molte religioni e che pure sono di una bontà incredibile bene hanno questa caratteristica di avere la parte esterna un po' croccante cioccolato un po' più duro quella interna che il paradiso stessa cosa fatte le debite proporzioni è per questa focaccia pugliese esternamente croccante internamente molto liscia e in più questa alveolatura particolare non sempre viene ma quando viene di una soddisfazione pazzesca vi metterò poi stasera pubblicherò una serie di documenti quindi la ricetta per fare per realizzare la focaccia pubblicherò una serie di video comparativi con vari metodi di impastamento quello diciamo che più facilmente porta la focaccia pugliese che noi tanto desideriamo con l'alveolatura molto strana molto particolare poi l'avete vista nella locandina è veramente un'alveolatura anomala ragazzi ve lo ripeto ci tengo perché l'unica cosa veramente particolare è una alveolatura che ha solo ed esclusivamente questa ricetta non c'è un'altra ricetta di nessun tipo alveola cioè a grano duro grano tenero a mix di qualunque tipo ricette di qualunque maniera che abbiano quel tipo di alveolatura quindi è veramente qualcosa di unico nel nostro panorama e insomma un bello orgoglio per me avere contribuito a portare questo risultato quindi provatela è una cono senza alveolatura alla fine il risultato è molto simile ma la cosa è fondamentale che perde quella sua rusticità ecco questa è una grande cosa quindi ha tutti i piaceri della semola profumi sapori eccetera e poi ha questa sua meravigliosa liscezza fa schifo come termine diciamoci la verità diciamo setosità sericità sarebbe proprio la sua e ha questo sapore fantastico come la festeggeremo sta ricetta domenica domenica prossima domani è l'anniversario ufficiale ma domenica prossima noi faremo un evento molto carino in cui faremo una serie di interventi faremo un impassiamo tutti assieme io vi darò pubblicherò già il venerdì sera pubblicherò un video dove c'è proprio le modalità per la realizzazione quelle ottimali per la realizzazione del cento per cento con la planetaria ecco questa ragazza ve lo devo dire purtroppo la semola fra le sue caratteristiche a quella di non essere soggetta al non id quindi voi non potete usare il non id con la farina con l'impasto di semola perché la semola non risponde alle pieghe non forma glutine con le pieghe oddio c'è stato un ragazzo sandro notaro si chiama che nel forum alla fine dopo tanti tentativi riuscì a mettere appunto il non id per la semola ma era qualcosa che si sviluppava lungo intere giornate voi dovete pensare che lui cominciava e ci metteva due o tre giorni per realizzare il non id perché le pause fra una piega e l'altra dovevano essere lunghissime probabilmente perché proprio il grano duro aveva quella difficoltà a far entrare l'acqua a far formare i gluti non lo so comunque sia normalmente non funziona andai a una trasmissione di Antonino Esposito partecipai con la mia focaccia era il mio cavallo di battaglia partecipai con questa focaccia e non c'era planetaria quindi c'era solo la spirale che non funzionava e c'era non id io ho convinto di poter fare non id mi imbarcai in un'impresa storica sull'avo come un pazzo mi ricordo che c'era una Sergio Maria Teotolica e Cristina Lunenardini preoccupatissimi poi per fortuna le cose riuscimmo a sistemarle con vari strada per gemmi la pizza la focaccia venne benissimo e facemmo una bella figura per fortuna non era proprio scontato andò bene proprio per il rotto della cuffia comunque sabato pubblicheremo o venerdì sera pubblicheremo il video di come si fa l'impasto fatto bene col gancio che voi sapete io con la foglia sono sempre molto privilegio la foglia ma questa volta è meglio il gancio quindi useremo il gancio che poi è curiosa questa cosa poi ne parleremo nel video e faremo vi farò vedere ogni singola fase dopodiché a partire dalla giornata di domenica per un'intera settimana voi avrete la possibilità di postare questa ricetta questa ricetta poi verrà votata con i like e chi becca più like beccherà un regalino di farina faremo arrivare la farina e questa volta questa è la sorpresa faremo arrivare la due priori che è una farina molto particolare voi lo sapete ci sono arrivate tantissime sfiancanti richieste di averla due priori e fino oggi abbiamo un po' cercato di mantenerla riservata agli esperti però chi riesce a fare sta focaccia impassa un cento per cento proprio un pippone non deve essere diciamo quindi quindi una bella farina due priori se la merita e qui non riusciremo a darla regaleremo la due priori 10 chili e daremo per ciascuna delle tre categorie faremo tre categorie una è la farina è la migliore focaccia dall'aspetto complessivo una è la migliore sezione che dovrà in qualche modo replicare se gli andrà bene perché ripeto non è assolutamente scontato manca a me a volte viene a volte no e quella alveolatura molto strana della focaccia altidratazione e poi la terza sarà per il miglior condimento quindi avremo tre sezioni diverse chi becca più like si presenta in uno in un altro in un'altra e noi faremo diciamo apriremo le danze e faremo votare con i like in aggiunta a questo un piccolo gruppo di noi degli amministratori del forum quindi cochiara rita danni e francesco priori eccetera daremo un'occhiata cesare daremo un'occhiata alle pizze migliori quelle che poi nell'insieme sono risultate più particolari più belle e rilasceremo un timbro particolare di benemerenza che potrà essere applicato su queste foto diciamo che saranno come una piccola medaglietta per coloro che sono risultati diciamo un po più bravi in questa lavorazione quindi noi domenica dedicheremo l'intera giornata a questo evento sabato venerdì pubblicheremo il video sabato faremo una piccola diretta o domenica mattina domenica mattina faremo una diretta per dare tutte le informazioni a coloro che avessero dubbi o perplessità o altro per i condimenti presenteremo quelli che sono i nostri condimenti ma poi ovviamente sarete liberissimi di fare di scegliere i vostri ma soprattutto di dare ausilio a chi ha cominciato a impassare se è trovato un pochino in difficoltà quindi daremo una mano a tutti tenete presente che resta un cento per cento quindi non è un un'impresa che passa inosservata insomma è una cosetta abbastanza importante le parolacce terribili sono di grande utilità incortano incortano e poi domenica mattina faremo questo domenica pomeriggio un'altra micro diretta per consigliare i condimenti non so che altro ma guarda facciamo anche quella la mattina e poi direttamente la sera una mini diretta per vedere per ringraziare tutti parlare dei risultati vedere quello che sta succedendo dare ulteriore aiuto a chi lo volesse e quindi andremo a chiudere la giornata dedicata alla focaccia pugliese ad alta iterazione focaccia a priori come la volete chiamare voi ragazzi dovete riempire il web sì mi piacerebbe tanto se ci fosse un qualcosa di particolare perché vi dico è veramente speciale è un focaccione che vi cambierà la vita può essere utilizzato in ogni occasione sia per portarla a tavola mia madre lo usava la intingeva nel ragù e vi devo dire che sono delle perversioni notevoli ma nel ragù veramente qualcosa che non ha uguali ma poi provate a immaginare una bella fetta in sezione tagliata e fatta a crosticina fatta a bruschetta non provate a immaginare con la burratina pugliese oppure con delle mousse mousse a prosciutto o semplicemente un triangolo tagliato in mezzo e farcito con una mortadella a pioggia proprio tantissimo prosciutto crudo lungo la strada foggia bari c'era una stazione di servizio che proponeva la focaccia non così ma era un'altra ma con le fette di di prosciutto crudo fantastiche qualcosa che ci si guardava negli occhi mentre si mangiava perché era proprio formidabile bene ragazze quindi domani io comincio a mettere un po di video venerdì partiamo con il video ufficiale per l'incordatura quindi quelli che pubblicherò domani non sono quelli che si portano oddio voi potete fare quello che volete potete usare anche questi più diciamo più semplici perché ne ho fatti diversi ho fatto poi lo vedrete insomma praticamente ragazzi io sono riuscito a fare il 100 per cento di incordatura in poco più di cinque minuti cinque è una cosa incredibile e si incorda alla perfezione si incorda proprio che viene un gel liscio bellissimo e tutto questo in cinque minuti il trucco sta perché i tempi normali sono usando la foglia 13 minuti usando il gancio 20 minuti usando la foglia e l'autolisi ecco un'oretta di autolisi in frigo vi porta un risultato devastante il miglioramento dei tempi che scendono da 20 del gancio a 13 della foglia senza autolisi a 5 poco più della foglia con autolisi sono veramente risultati bellissimi perché a zero non la fatica questa focaccia dovete pensare che ha impastamento un'ora in puntata un'ora e mezza circa in appretto e si cuoce finita è bellissima è veramente di grande soddisfazione veloce comoda e buona più di questo non si può ottenere ok quindi amici miei ci si vede allora io ai ragazzi ho detto perché me l'ha chiesto un secondo intanto io bevo l'ha chiesto Giuseppe mi ha detto domenica domenica mattina a che ora io direi verso le 11 ci vediamo ci facciamo una diretta di una mezz'ora sì sono fondamentalmente per diciamo rispondere a tutte le domande che ci saranno sicuramente ma io mi sono ah fondamentale ragazzi la scelta della semola per fare questa farina è critica vanno fatte due cose ve l'anticipo una acqua gelida quindi parliamo di acqua a quattro gradi limite congelamento e l'altra è la semola se usate una semola con poche proteine difficilmente riuscirete a incordare e ottenere quel bel risultato dovete usare una semola con 14 di proteine ce ne sono alcune anche 14 e 50 ma non mi ricordo la marca ve lo confesso però 14 grammi 14 per cento di proteine lo trovate sia nella De Cecco che è facilmente reperibile ma anche la molisana c'è quella macinata a pietra c'è quella per pizza secondo me sono identiche non cambia niente hanno cambiato l'impasatura perché vedevo che hanno la stessa struttura difficilmente a meno che non cambiano le famiglie dei grani ma dubito però sono anche tutte e due sono 14 di proteine quindi vi ritroverete sicuramente con un prodotto facilmente incordabile gestibile per quanto possa esserlo un cento per cento comunque quindi procuratevi la semola De Cecco o la molisana mettete l'acqua in frigo lievito fresco ragazzi lievito di birra fresco utilizzate il gancio se volete provare anche con la foglia fatelo tenete presente che la regina di queste di questa giornata sarà la planetaria a mano non funziona con la spirale si arriva al cento per cento ma non sempre e insomma diventa un'impresa abbastanza memorabile abbastanza logorante io la la spirale in questo caso la saluterei andate di planetaria e andate divertitevi perché una ricetta che vi darà tante tante soddisfazioni vedrete ok allora io permesso posso ragazzi pubblicheremo tutto anche questa diretta oltre che sul canale youtube anche all'interno dell'evento così lo trovate stesso discorso per il video che Ettore metterà con la spiegazione con l'impasto certo anche perché ragazzi ci sono tanti ragazzi all'estero che logicamente loro si collegano con altri orari rispetto a noi quindi almeno a dare delle indicazioni precise fisse all'interno dell'evento troverete tutto una cosa importante è che io stasera pubblicherò un video di confronto fra un impasto con la planetaria e con la foglia con una massa che è stata fatta senza autolisi e una con l'autolisi lo schermo sarà diviso in due e troverete tutte e due vedrete come cambia cambiano i tempi per ottenere lo stesso risultato finale a vantaggio ovviamente di chi ha fatto l'autolisi quindi quello è già qualcosa non sono quelle le tecniche che io consiglio per questa ricetta se volete fare quelle benvenuti fatele pure non sempre diciamo che non sono le migliori per ottenere il risultato di quella alveolatura speciale che tanto tanto connota questa questa cosa in più fra un in 10 minuti appena finisco di parlare farò una raccolta di foto di questa focaccia e pubblicherò un post dedicato alla focaccia pugliese con praticamente solo le foto niente altro ma per farvi avere un'idea di come sono l'alveolatura speciale che ha questa questa focaccia così avrete un'idea proprio visiva che vi darà conto abbiamo finito mi pare vero ragazzi mi vi posso liberare da questa croce vi ringrazio di essere stati così numerose così attenti e vi abbraccio tutti quanti ci vediamo domani ciao 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 ciao